Benvenuti in questa nuova puntata sul bunker dedicata ad una carica per la prima volta in assoluto, una carica silenziata in calibro 36 Assetto messo a punto e bancato dall'amico Manuel Alessandro, titolare della pagina Facebook balistica applicata alla ricarica Pagina molto interessante che vi consiglio di visitare Prima di cominciare e prima di darvi questo assetto, di fare questo assetto insieme Trovo l'occasione anche questa volta di consigliarvi le scatoline della Siharm per conservare in modo corretto e ordinato le nostre cariche Silenziata con A0, sigla Eccoci di nuovo insieme per parlarvi di questa silenziata in calibro 36, silenziata pura Quindi una carica dalla bassissima rumorosità, rumorosità che si attesta intorno ai 75 decibel Che cos'è una silenziata? Una silenziata è una carica, una subsound o una subsonic Cioè una carica che spinge il piombo ad una velocità non eccessiva sotto la velocità del suono Di conseguenza una carica che non provoca il classico bang sonico E viene assemblata in modo che non risulti neanche il bang dei gas Ok, quindi di solito viene fatto con delle polveri vivaci o semi vivaci In questo caso vedremo una silenziata che non è facile realizzare con una polvere progressiva Parliamo della A0 Devo dire che Manuel ha messo a punto questa carica che è perfetta Poi vedrete la bancatura, vedrete la costanza nei colpi Ok, cariche silenziate che di solito hanno delle pressioni molto elevate Questo picco pressorio comunque avviene in tempi brevissimi E totalmente all'interno della camera di scoppio In questo caso abbiamo una cartuccia silenziata con appena 800 bar Allora, io direi di procedere subito Quindi A0 l'8 2019 In questo caso utilizzeremo un bossolo che dite con innesco CX50 Che è stato rifilato a 62 mm precisi Vi raccomando, nell'assemblare le silenziate dovete essere molto precisi Perché una minima variazione può comportare delle variazioni dei valori Che in questo caso, vi ripeto, la carica è pressoché perfetta Ok, poi vedrete anche l'esplosione dei colpi Con la curva che praticamente ad ogni colpo si sovrappone a quella precedente Allora, andiamo a caricare insieme questo assetto silenziato Dove veramente Manuel ha fatto una cosa bellissima Cioè una cartuccia perfetta, un assetto costante Dei valori contenuti Cosa difficile da trovare nelle cariche silenziate È una bassissima rumorosità Una bellissima rosata che purtroppo ho provato in precedenza Ma che oggi non riesco a riproporvi Perché le condizioni del tempo sono realmente pessime Cioè questo a fine settimana È stato assurdo Ok, quindi maltempo temporali Blackout elettrico Infatti pensavo di non riuscire neanche a proporvi un solo video Allora, procediamo con il caricamento polvere a zero In dose di 0,50 Come borraggio Utilizzeremo un sugherino rinforzato da 2 mm Vi ricordo che il borraggio, il sughero Nel caso delle silenziate Non deve assolutamente trattenere tutti i gas Cioè questo è l'escamotage che serve a creare una carica Dalla bassissima rumorosità Va bene? Con delle prestazioni che Nonostante una polvere vivace Sono di tutto rispetto Poi vedremo insieme la bancatura Dopo che abbiamo messo la polvere Il sugherino da 2 mm va assestato per bene Ok, aiutandosi con un calcavorre Come ho fatto io In questo caso con un pennarello Che è perfetto a livello di dimensioni Il piombo 22 grammi di piombo numero 8 Lo metteremo in parte Faremo assestare Per bene E metteremo la seconda parte di pallini E assesteremo di nuovo Tutta la carica Vi ricordo il bossolo rifilato a 62 Un bossolo della che dita con il Nesco CX50 Per la chiusura utilizzeremo un cartoncino Che mi sono dimenticato di prendere Provedo subito Eccomi con il cartoncino Che provvederemo a calcare E poi andremo a chiudere questa carica in orlo tondo Ad una quota di 62 Ok? Bisogna essere molto precisi con la chiusura Logicamente bisogna utilizzare delle bobine Adatte Perché molto spesso mi capita di vedere Delle chiusure in orlo tondo Che sembrano masticate Bisogna utilizzare degli accessori moderni Attuali Tutte le bobine Tutti gli accessori attuali Sono degli ottimi prodotti Che consentono di fare delle belle e funzionali chiusure Ok? Andiamo insieme a chiudere questa carica Con una quota di 62 Grazie a tutti Allora Cosa altro aggiungere? Avete visto La bancatura di questa carica Avete visto i valori Avete visto la velocità sviluppata da questa carica A 272 metri al secondo Velocità di tutto rispetto Per essere una silenziata Fatta con polvere progressiva Pressione solo 810 bar L'unica cosa che vi resta da vedere È la rosata di questa cartuccia Che purtroppo oggi Come vi ho detto Non riesco a provare Cartuccia Ottima Ottima Cioè qui ha veramente fatto un vero gioiellino Se volete potete replicarla Vi ricordo che è una carica bancata Una carica del tutto sicura Con valori ottimi Dalla bassissima rumorosità Solo 75 decibel Adesso avete praticamente tutto Il necessario Per provare ad assemblare questa carica Per provare questa cartuccia Avete visto nella descrizione L'assetto completo Ok? Nel minimo dettaglio Avete visto i valori Che riesce a sviluppare Questa carica Da soli 75 decibel Di conseguenza Non mi resta Che salutarvi E rinviarvi Alla prova In placca Che farò Ad una distanza Di 20 metri Speriamo nel più breve Tempo possibile Ciao E al prossimo video